Napoli-Lazio 5-2, un ottimo Napoli ragazzi, che dire, mamma mia, una batosta clamorosa a questa Lazio. Premessa, il rigore non c'era, dai, forse non c'era, perché ne hanno dati dei più scandalosi questa stagione, quindi forse il nostro ci poteva stare come non ci poteva stare. Comunque, detto questo, Insigne è strepitoso questa sera, doppietta, che cosa vogliamo dire di più? Insigne è a meno uno dal suo record storico in stagione, 18 gol, siamo al 17esimo gol stagionale per lui. Ma, guaiù, tanto tanta roba questo Napoli, Napoli formato Champions questa sera, ha dato veramente una lezione bellissima di calcio a questa Lazio, però, come detto, il Napoli è partito con quel calcio di rigore, poi da lì, guaiù, guaiù, cioè se la Lazio era forte, ci faceva chi lui gol, poi è stata sfortunata perché ha preso pure il pallo, però il Napoli su 4-0, dobbiamo dire questa cosa, il Napoli su 4-0 non mi è piaciuto perché secondo me si sentiva la partita in pugno, ha preso due gol, il primo è un grandissimo gol di Immobile, non c'è nulla da dire, e sul secondo pure la punizione di Milinkovic, Savic, forse Meret poteva fare qualcosa in più, però, tralasciando questo, l'importante, non ho capito perché Mertens sul 4-0 si è messo a piangere, forse si è messo a piangere per la giocata clamorosa di Zelisky, questo non lo sappiamo, penso che poi ce lo diranno loro perché Mertens si è messo a piangere, e ottima prestazione anche di Ozyman, entra e segna, naturalmente se Ozyman l'avesse messo anche prima avrebbe segnato anche il primo tempo, perché Ozyman è quel giocatore che con gli spazi aperti della Lazio, come abbiamo visto oggi, ne ha lasciati parecchi di spazi aperti, e è entrato, l'ha buttata quasi subito dentro, quindi ottima prestazione anche da parte sua. Se devo trovare forse il peggiore in campo oggi vi direi Isai, il primo tempo, prima del rigore di Manolas, molto probabilmente c'era un rigore per la Lazio, poi giustamente dato al VAR, hanno notato prima il contatto di Milinkovic e Savic su Manolas, hanno dato il rigore per il Napoli, migliore in campo, Insigne, ma a parte proprio tutto il Napoli forse ha giocato bene, anzi il peggiore in campo è Meret, guarda, me la butto lì Meret proprio per i due gol subiti, proprio così, migliore in campo Lorenzo Insigne, ora è tutto a lì, siamo a meno tre se non sbaglio dal Milan, a meno tre dal Milan, siamo tutti lì, siamo tutti lì, era fondamentale vincere questa sera e abbiamo vinto. Sempre forza Napoli, dal vostro Napolis 1926. Grazie a tutti i nostri spettatori,